non ho una mano quando faccio alzo una sola mano e ora il proprietario di casa ci sta portando in un posto dove scopriamo vuol dire mi sta riattaccando la mano con una spillatria ma poi perché mi fa l'operazione mentre o l'orologio perché non me l'ha tolto ma tu ce l'hai sempre avuto l'orologio no mi ha messo l'orologio siamo oddio sono a cena con dei pazzi che ci stiamo a me guarda qua pure lui gli ha tolto la mano ma la cucina ma sono tutti bianchi no che schifo cos'è un verme assaggiamo comunque non è una famiglia stabile ma non lo voglio ci tiene comunque è un cattivo cuoco si è un bianco no si è aperto la bocca bene si è tolto la lingua basta ti ha salvato la campanella lui non si è affeso tantissimo per il braccio no ma poi non se lo sta curando dovrebbe metterci un panno sopra ho un cerotto lei è la più educata nel modo immagine oh mi posso muovere oh sto su una sedia hai le gambe wow e la mano mi funziona vediamo in frigo ah budella hanno ottime idee per le prossime ricette ma mangelo sempre la stessa cosa mangiano solo budella congelatore cosa ci sarà budella uomo trentenne magro gumbo che vuol dire donna cinquantenne carnosa sono ricette il gumbo sarà una ricetta mettiamo un'immagine del gumbo mettiamo un'immagine del gumbo ah ecco vedi che schifo il gumbo è una pietanza originaria dell'area degli stati uniti affacciata sul golfo del messico vabbè è uno schifo guarda però qui dove ci hanno venuto a mettere la carta stagnola si per non sporcare poi guarda che belle pepire che hanno una cosa più bella scintillante cosa sono? delle tovaglie pulite proiettili proiettili ottimi erba pure erba nascosta in quel spazio lì apri la apri la sembra fragile forse potresti usare qualcosa per spaccarlo non ho niente oddio è chiuso dall'altro lato che devi far frank ti becca e che posso farmi vedere qui a tu dici non mi devo fare quello lì ha un ammazzo in mano matteo vai vai sto andando il massimo ma che non mi piace girano fatti guardare da dove esce la gira lo ha una pala da dove esce da vai la vai la vai la statistica mai a sinistra esce a destra non esce più oh mio dio sono un adulto ma la vecchia la vecchia non c'è più ma io mo giri intorno al tavolo la vecchia ha tirato le cuoie ma ti hanno zato per andare vado nel garage no 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 chiude vai vai la destra destra ora siamo solo dove la vecchia la vecchia scappata perché forma più forma di te una pala molto potente dove vado non lo so dove devo andare non ha rotto il muro qui allora aspetto che riviene di qua e poi scappi devo capire da quale porta statisticamente da quale porto da quale muro muro non lo riesco potrebbe essere dietro attento che qua ti vede oh vai 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 non si apre non c'ho la patente dove vado ma lì sei sicuro che non c'era niente c'è una più inutilizzabile ma a te sono morto piccolo cecco vai vai torna indietro questa foto bell'uomo il suo viso trasmette un senso di arroganza ma a te sono morto quindi devi trovare un aggeggio guarda altre foto quella coppia di sbagliati cos'è una foto di un ex attento eccolo forse mi serve la sua pala no ma perché cammino qua destra aspetta fammi prima Matteo ma più veloce addio perché non perché che devo fare ma cammini di dire che devo già il garage tutto ma se le scarpe le spalle è chiusa da guardia ma che guardia che fanno le mani con la pala ma forse ha fatto cadere il green screen ho fatto cadere il green screen sto sudando chiave chiave botola vai vai dov'è la botola era ecco qua aspetta aspetta vado prima a fare il giro fammi fare il giro del salotto così non mi c'è una macchina ma fai vai dalla statisticamente dimmelo dritto vota la ma mostrata e botola chiave botola chiave botola chiave botola chiave botola oh mi ha preso nooo scappa scappa ma che mi sta facendo la gamba staccata la tua gamba perché mi devo pigliare le mie cose con la scala ma ora che devo fare fai nella botola guarda del medicinale usa soluzione medica una spruzzata sulla gamba una spruzzata sulla gamba e tutto andrà bene ma perché fa così non è credito ma buono la vita non funziona meglio se corre Matteo è tutto a posto funziona cammini meglio di prima e forse dove staccare le altre come riavviare il computer stacchi la gamba attacchi la gamba va meglio vai apri no 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 sono sceso bravo ma è stato a caso vado a caso vado a caso vado a caso si è arreso si è arreso a non viene più ha detto torno dopo divertiti perfetto wow ma quella quella non ti hanno tolto la pila dalla bocca hey bro hey bro feel fresh questo è il nostro amico per sempre lo sarai lì sotto sotto il registratore sotto il tavolo questo è il mio nuovo ebro è il mio nuovo l'altro ebro è inutile quello non era un vero amico questo è un vero amico segreto guarda che devo appendere qui oh un altro bro un altro bro è meglio dell'ultimo questo è meglio l'altro non era un vero amico ciao bro chi è chi è open up oh c'è qualcuno là no me lo ammazzano ma te non posso incontrarti nel garage c'è quel nastro tenace wow eccolo come mi sento sicuro ma me che fai contro lui no 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 serve subito quella medicina medicina sparano nella testa ma che arrabbiatissima fa niente e pieno di medicina le berra all'interi di quella medicina matteo secondo me non sto risolvendo niente così ma vuoi entrare in macchina devi chiudere la testata sanguinosa vai vai ma te mi voglio curare vai in macchina vai in macchina perché devo andare in macchina non lo so è più sicura guida hai bisogno di una chiave ma te mi sapessi inutilmente in macchina non sto qua non sto qua mi fermo sparano scappardia guardia 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 ho usato il liquido sono uscito da un liquido scappa e spara c'è c'è un cassetto che puoi aprire lì sparalo non gli fa niente Matteo non si fa niente come sto sprecando solo colpi qui c'è un cassetto apribile l'ho aperto e sono scappato guardia 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 ma ha funzionato un po' no perché ho usato questa medicina mi serviva Matteo ho finito tutti i colpi finito non hai altre munizioni ho il coltello che faccio eh tienilo così dalla macchina no ti rovina la macchina è molto forte se ne vuole andare ma dove vai? ma che vuole fare? aspetta accoltellalo ma che vuole fare? perché è un pazzo? ti vuole investire gli hai dato eh ahahahah hai tagliato la pelata aspetta tagliagli la pelata aspetta stai provando ancora altri tagli aspetta aspetta ma come fa? comunque il tuo metodo è veramente momenticale si ancora ancora più tagli sulla pelata ma che sta a fare? inizia a pensare che è immortale oh che sta a fare? è morto è infermo prende fuoco Frank stai lontano ma l'ho ucciso nooo 50 coltellate gli ho dato è l'uomo fuoco e come si ferma l'uomo fuoco? ma sei stato tu a romperla e beh ma te ho paura dell'uomo fuoco ahah ah c'è un buco nooo guardia 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 ahahahah muore che succede? l'estlusione l'ha disturbato ahahahah scappa Frank voglio scappare ma l'uomo fuoco ti è caduto addosso oh guarda sto prendendo fuoco tranquillamente madonna ma è morto? sono tranquillo si è spento wow oh wow mamma mia che fatica è stato bellissimo però il suo metodo è stato stupidissimo ecco rocci